Nessuno aveva detto che sarebbe venuto Bacchino. E allora? Quell'ingresso è sorvegliato. Devo trovare un'altra strada per superare gli uomini di Joker. Paura del pipistrello cattivo? No, nemmeno per idea. Ma mi ha rotto tre costole ai tempi del manicolo. E il braccio, sei mesi fa. Allora meglio assicurarsi che non si avvicini. Facile a dirsi. Non l'hai mai visto in azione. E quando lo vedrò, gli insegnerò che con me non si scherza. Harley lo vuole morto. Io voglio Harley. Passare per questa porta sarebbe un suicidio. Hai dimenticato il suo ragazzo. Da quel che ho sentito, il mondo intero se lo scorderà molto presto. E allora avrò la mia chance con Harley. Ho un proiettile in faccia. Dico sul serio, non montarti la testa. Batman è pericoloso. E anche Harley. Buon appetito. Grazie.